Musica Ciao a tutti ragazzi, qui ButtaFuori E oggi siamo sul nuovo gioco Cube World Alpha Che è uscito veramente da pochissimo E l'ho atteso da tanto, veramente Come potete vedere Già dal paesaggio qua, è molto simile a Minecraft Ma ora iniziamo pure Start Game Questo qui è il mio personaggio Ma prima vi faccio vedere un po' Tutte le classi che ci sono Innanzitutto il gioco è tipo Tipo quasi come Unicrocio tra Zelda Diablo E World of Warcraft più o meno Ma ora vediamo le classi La prima è il Warrior Che è un guerriero che combatte corpo a corpo Con armi grosse Fa un bel po' di casino La seconda È il Ranger Che è la classe che uso io Un po' difficile all'inizio da usare Perché è un po' debole all'inizio Ma dopo diventa forte Perché soprattutto non è tanto resistente All'inizio diciamo che per Chi non ha tanta pazienza È consigliato usare il Warrior Seconda classe Anzi terza classe è il Mago Che lui attacca a distanza Anche lui come l'arciere Non è poi tanto resistente come il guerriero Però andando più avanti diventerà più forte La quarta classe È Rogue Way Questo qui direi che è una via di mezzo Sì e poi molto veloce Ecco abbiamo finito con le classi Qui potete personalizzare Per farlo elfo Nano Orco Goblin Uomo Lucertola Non morto Uomo Rana O umano Le classi sono tante come avete visto Poi vabbè potete cambiare la faccia come preferite E ok Vi ho presentato le razze E le classi E adesso passiamo al gioco vero Va bene gente eccoci qua Questo è il mio personaggio E adesso eccoci nel mondo Che adesso è notte qua E come potete sapere Se vedete in giro basi come queste Dove c'è anche un sacco pelo Potete dormire per riposarvi E ricaricarvi la vita O almeno solo col sacco pelo Non con la tenda È strano ma vero E ora direi di andare subito Qui c'è una ragnatela Che può darmi degli oggetti molto utili Ecco qua E inoltre come minecraft La sega Per craftare le cose con legno O altro Adesso direi di andare Cercare qualche animale Da uccidere Cos'è quello? Uh cos'è? Mi sembra tipo un cane Vediamo se posso prenderlo No non posso Perché come sapete L'arcere può avere anche Il pet Che può combattere sul fianco Forse pilla Ecco Mi spiace cagnolino Ma Dovevo farmi esperienza E ora andiamo avanti Cos'è questo? Temori albaca Ficcate sto freccio Il volume è un po' Troppo alto Secondo che lo abbasso un po' Ok L'audio Sound 100% Ci credo Ok Così avete visto un po' Anche le schermate E adesso Andiamo un po' U c'è una grotta Ecco Già che ci sono Vi faccio vedere Su questa parete ripida Come ci si fa Ad arrampicare Ma prima faccio Ma che Pipistrello Adesso le prendi Ecco Già da livello 2 L'arcere è già più forte Uh cos'è che ho trovato? Cos'è? Wow Perché lo devo mettere? Cos'è? Ah è del mago Non è mio Mage Mage Perfetto Tanto questo Quanto attacco ha? 1,3 Questo Sempre 1,3 Ah Ok non cambia niente Solo Che è una balestra Come potete vedere Come potete vedere Già dal livello Dal livello 2 L'arcere è già più potente Ok Accendo la luce con F E in pratica In pratica ci si arrampica Con il CTRL Sinistro Vabbè Vabbè adesso è già più facile salire Perché è un pendio Con gli scalini Quasi Quasi Ehi Chi sei tu? Fatti vedere Ah è quello Ah ogni tanto Un NPC Ogni tanto si incontrano in giro Scusa Scusa Ci conosciamo? No Ma ero Ti ringrazio per avermi aiutato Meglio che torno al campo A riprendermi la vita Non è questo Ma era un po' più indietro Ah eccolo là Forse è quello Qui intanto ci sono i cavalli Non so se si possono montare Però Le mount in questo gioco Sono tante Davvero Mi piace veramente un sacco Questo gioco Ok Dormo ora Ecco se avete la fortuna Di trovare un campo con questo Utilizzatelo bene Perché Potete almeno Fare esperienza Senza sprecare le pozze O le pozioni Vabbè Tanto lascio qualche matto Che sta attaccando i cavalli Tanto è che il mio personaggio Fa la nanna Ok Chi è quel matto Che attacca i cavalli? Uè Fatti vedere Ah tra l'altro Questo gioco Se non sbaglio Ci ha lavorato anche la Mojang Con notch Infatti La grafica ricorda molto Minecraft Sì anche E anche per il crafting Hanno preso un po' da Minecraft Però veramente hanno fatto un ottimo lavoro Va bene Si sentono i rumori notturni Poi visto nei video Che ci sono tipo Il deltaplano E E anche la barca Però quelli piovanti Vediamo se Vediamo se incontriamo qualche mostro Facile a sconfiggere Perché oggi ho fatto tipo brutti incontri Ok L'arcella di livello 1 Non è tanto potente Vi consiglio dunque di andare a caccia di mob Un po' deboli Per salire poi il 2 Che è un po' più forte E se la cavo abbastanza bene Però evito sempre I mob troppo forti Dunque Tra un po' Sorge l'azzole E là ci sono anche le nuvole Da sopra Ui Non c'è nessun mostro Ah Guarda là in fondo Ci sono i cavalli Dai Puoi morire Ok Grazie per l'esperienza Ecco Quando salite di livello Adesso non sono ancora salito Sì adesso sono al 2 In pratica dovete andare qui E aumentare le skin Come ho fatto io Per l'arciere c'è O lo scout O il cecchino Che il cecchino penso che sia più di precisione Da lontano E lo scout invece più velocità e combattimento C'è morti e fuggi per esempio Attacca i nemici con attacchi veloci Non so se anche ravvicinati Un cespuglio Da molti materiali utili Ok Ecco Là c'è una tenda Qua c'è una grotta Invece Quasi quasi la vado a esplorare Ah E' già finita Che succede lì Sarà qualche NPC Ah Questo qui Come potete vedere E' un fiume Mi sembra quasi di essere Bear Grylls Da te Ecco Poi L'esploratore A differenza di altri Ha anche la velocità Dalla sua parte Sia nel nuoto Che nella Nell'arrampicata Che nella corsa Uh Un altro cespuglio Perfetto Avanti Adesso Non ci sono molti mostri In giro Quanto pare Di giorno Ce ne sono tanti E' strano Dove siete andati a finire Mostri Venite fuori Non c'è anima viva qui Per il multiplayer Invece ci stiamo lavorando su Per come Per scoprire come fare Io E' il mio gruppo Uno Un lupo Muori Muori Essere il mondo Muori Ah mi tocca Fuggì Questo è troppo forte Ecco Ci sono anche I mob aggressivi Come questi Che se ti vedo Non ti attaccano Non mi avrai mai Lupo Ma come mi prenderai? Adesso mi arrampico Su un albero Oh Ha rinunciato Di inseguirmi Molto bene Ah no Anzi Mi sta ancora Eseguendo Dai Ah No Non mi sono arrampicato Come si deve Forse sull'albero Però più fortuna Ah no Bastardo No Non mi avrai Il prossimo colpo Che mi darà Mi uccide Non mi prenderai E dai O mi è andata bene Che non mi ha colpito Sono salvo No 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 Il lupo si è arrampicato Ah Sono morto Ogni volta che morite C'è questa statua Strana Che se fate esamina Dice Non è niente di speciale Ok Sembrerebbe che qua c'è un campo Ecco Poi nel gioco ci sono anche le città Qua c'è un sacco pelo Però Sto bene adesso E non mi serve A dormire L'alba Non è ancora arrivata Uèi C'è Nishu La foresta buia Delle volte Può far paura Un gatto Peccato che Non posso ancora Domesticarli L'esploratore Povera Pet Non so a che livello Esattamente Però Al momento Sono costretto a ucciderti Mi dispiace Scusami gattino Ma Devo fare Farmi le ossa Cos'è questo? Oii Che che sta venendo? Sento dei passi Questi sono i miei Però prima ho sentito i passi di un altro Sembra quasi Come se ci fosse lo slender Ok Un cuore Un fiore cuore Ma di chi sono Questi versi? Dai Già che sono qui Anche se ho perso poca vita Ok Oii Schifosi Come usate Crepa Schifoso Non mi cederai Oh Questi attacchi improvvisi Dormi Ok Adesso recuperiamo vita Intanto che lui fa la nanna Dormi La faccia lì in giù Chi c'è? Ok Fatevi Fatevi vedere Uno stagno Altri threat Anzi Cornling Sistemato Il sistema d'attacco Come potete vedere Non è come gli MMO Qui potete attaccare Come vi pare Come se fosse Minecraft Più o meno Mud of Realm of The Mud God Gioco di Steam Free to play Uh Cos'è questo? Un insetto limone Non mi avrai mai Due Nooo Mi ha ucciso Non è niente di speciale Attivo la luce La lanterna Che qui quando è buio È buio pesto Veramente Non si vede quasi niente Sì Adesso poi stanno lavorando Tipo per Il server Di massa Dove c'è Tanta gente O anche Un po' per i multiplayer Va bene ragazzi Direi che Per oggi è tutto Vi ho presentato il gioco E spero che Vi piaccia Vi consiglio di comprarlo Appena vedete Appena vedete La pagina Di acquisto del gioco Il prima possibile Perché siccome lo stanno acquistando Tantissima gente Delle volte Cade il link E non potete scaricare Il gioco costa 15 euro E se potete Compratelo Perché ne vale la pena Ok Alla prossima Ciao